Siamo con il sindaco di Capaccio Pestum, dottor Italo Voza. Dottore, possiamo fare un primo bilancio di questa diciassettesima edizione della BMTA? Allora, un primo bilancio diciamo che più che positivo, anzi i risultati che stiamo avendo come numeri sia di visitatori degli stand, sia di espositori e sia dei buyers e sia delle conferenze di qualità veramente ci dicono che questa è un'edizione che è da record. Siamo molto contenti anche perché quest'anno per la prima volta la borsa si tiene una struttura, una tenso struttura, le cupole geodetiche di altissima ingegneria e che sta avendo anche paradossalmente anche un grande successo proprio la struttura stessa. Molte persone da tutte le parti d'Italia ma anche dall'estero hanno voluto prendere informazioni per quanto riguarda la struttura proprio dal punto di vista proprio ingegneristico. Quindi siamo contenti che la location, che le strutture che in effetti stanno accogliendo la borsa e anche tutto il contenuto della borsa stessa sta avendo un successo oltre le più rosee aspettative.